. Bradley Cooper, ecco svelato il segreto irresistibile di ogni suo look. Considerato uno degli uomini più affascinanti ed intriganti di Hollywood, Bradley Cooper regala alle sue fan momenti di pura bellezza. Il suo talento artistico, unito ad una innegabile avvenenza fisica, gli ha permesso di conquistare il pubblico internazionale, prendendo parte a film che hanno fatto e stanno facendo la storia del cinema contemporaneo. . Ma qual è il suo segreto di seduzione? Ad ogni look sfoggiato, che si tratti di una serata di gala o di una passeggiata informale, l'attore accompagna la sua folta barba, ecco come ha conquistato la splendida top model Irina Shaikh. . Bradley Cooper è una barba da sonno. Sguardo di ghiaccio, capelli baciati dal sole e un fisico niente male, Bradley Cooper sa di piacere alle donne e non fa nulla per cambiare questa situazione. . Il suo stile unico ha conquistato migliaia di fan di tutto il mondo, molto sensibili al suo fascino maschile, anche la splendida top model russa Irina Shaikh non ha saputo resistere all'attore e la loro relazione procede a gonfie vele. . L'attore statunitense sta vivendo un periodo molto positivo per la sua carriera e anche la sua vita privata non potrebbe andare meglio, diventato da poco tempo papà di una incantevole bambina, Cooper è un uomo risolto e realizzato che si goda pieno la quotidianità. . . Il suo momento di serenità interiore traspare anche all'esterno, la star di Hollywood infatti appare più raggiante che mai, sfoggiando un portamento elegante e una intensità magnetica a cui è impossibile rimanere indifferenti. . Qualunque sia l'airstile scelto, riccio, mosso o liscio, l'attore riesce sempre ad indossarlo con una raffinatezza e sensualità da vero uomo, la sua barba inoltre è un inno alla virilità e sono molti a condividere questa sua scelta estetica. . Bradley e la sua sete di riscatto. . Il sex symbol di Hollywood oggi è un uomo nuovo, invidiato da migliaia di persone che vorrebbero capire il segreto del suo successo a 360 gradi. . Una compagna meravigliosa, una bambina appena arrivata e una carriera in piena ascesa, come si fa ad avere tutto questo? . In realtà Bradley Cooper non ha sempre sempre vissuto momenti entusiasmanti, anzi, in passato è stato costretto a superare ostacoli impervi che però gli hanno permesso di crescere, diventando l'uomo che è oggi. . . Purtroppo, a causa di una serie di difficoltà personali ed umane, l'attore è caduto nel vortice delle droghe e dell'alcol, queste sostanze avrebbero potuto sabotare completamente il corso della sua esistenza, ma così non è stato. . Cooper ha saputo reagire e cogliere le sfide della vita in modo nuovo, riprendendo in mano la sua quotidianità e stabilendo le regole del suo futuro, questa difficile partita è stata vinta con successo come testimonia nei suoi traguardi recenti. . La sua vita a fianco di Irina Shayk è una scoperta continua e l'attore ringrazia per avere al suo fianco una donna così forte e determinata, il ruolo della sua compagna infatti è decisivo e due sono ormai inseparabili. . Un uomo che è caduto, ma che ha avuto il coraggio di rialzarsi, rimettendo ordine nel suo caos privato, Bradley Cooper è un'autentica icona di stile e perseveranza. . .